Lascia un piaccio Lascia un piaccio Bella a tutti ragazzi sono Marci porca droga Mi sono salvato Bella a tutti ragazzi Ciao sono un pesce banana No ragazzi passa Sono un pesce banana Bene sono caduto Giuro che non sono caduto nemmeno io Ah mi si sono invertiti i tasti Ok io ce l'ho fatto E adesso Aspetta Marci aspetta un secondo devo cambiare i tasti Perché c'hai tesi No è giusto E allora E non mi correva con Che problemi ha Allora adesso ci dite il vostro tasto preferito in minecraft Allora adesso Il tasto preferito su minecraft In alto a destra vedrete la domanda Dove potete rispondere sia adesso che a fine video Mi raccomando lasciate un mi piace Visto che arriviamo quasi a tutti gli episodi a novecento Cerchiamo di arrivare a novecento In questo episodio facciamo C'è il milkshake Oddio I cut dove li troviamo? Vabbè io vado così a casa Cosa dobbiamo cercare? Non hai un cut te? No no ci saranno sicuramente Guardali Guarda Ah no No Marci Prima ho fatto una cazzata Marci Vieni Dani Marci Cos'hai fatto qua? Marci ho fatto una cazzata Prima è presente che tipo questa mappa È fatta apposta Per raccogliere queste cose qua Ecco Ma come ho fatto a prendere queste cose E le ho buttate Ciao Creeper Oh mio dio quanti Ci sono gli hamburger Ci sono gli hamburger Io vado ciao Ma no vabbè ma non posso Oddio cos'è sta roba? Dani? No Marci Una cosa strafiga I panini? Marci c'è un'orda di creeper Che ti inseguono Ok io sono tipo No no Ho la spada della morte Fammi vedere come funzionano questi cose Perché sono random Eh sono tacos Bellissimo Ah Io ho preso la saber La saber La saber La saber Gamer Sapevo che la dicevi Cosa bisogna Dove bisogna andare? Perché stiamo tornando giù? Non so Marci Marci non so Oh merda Ho finito la corsa Mi hai fatto cadere a me Mannagina i cani che fanno Ok io ho trovato una tecnica Ok io ho trovato una tecnica suprema Una tecnica suprema Anch'io Io mi mangio un tacos La tecnica del serpente assassino Ok Bene Tutte e due l'abbiamo Da dove? Marci c'è un creeper qua Attento Oh guarda che ti ha fatto salire Aspetta 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 fammi mangiare Aspetta eh Ok te l'ho messo dentro proprio Sei incinto di un creeper Wow Che salta fa? Ragazzi Ma quanto sono forte Comunque ragazzi Dedi una cosa Io sono ancora al mare Come vedete dallo sfondo Però Qui fa freddo oggi Sembrerà strano Ma qui fa freddo Da me si schiatta di freddo No non è vero Dani porca miseria Dove sei Marci? Ma Puttana No non ti sto beccando Non ti sto beccando Ti sto beccando con il libro Con il libro Perché ho il libro Con scritto dentro Bazinga? Oh un altro checkpoint Marci guardami Ah ma sei già arrivato Hai visto come sono bravo? Guarda qua ci sono i tuoi amichetti squid Che ti aspettano Addio Ciao Che poi ci sono Aspetta la smetto La smetto di fare queste cose Se no poi ci sono quelli nei commenti Che dicono Ma Dani Tu cazzeggi tutto tempo Anche nei video di Marci Non ti annoi mai? No No Che ho detto così Dove stiamo andando? Che paura E mi sei distrutto la barca Marci? Ma io ce l'ho ancora Io sono venuto addosso a te E sono morta Come una puttanella Sono morto? Di Parkour Mi ha laggato mamma Put the lever on diamond block Ok le prendo io Ah C'erano anche dei banana pesce Sto vedendo se posso ovviare Al tuo Ciao Dai mamma mia che scarso Tra tre e Martina Non so niente di scarso Ma io non sono scarso Solamente che non ho voglia di farlo Dai ma puoi? Perché stai biazzando dei creeper? No non ci credo No mi sono buggato Non l'hai provato veramente? Mi sono buggato Ci sono arrivato io E adesso? Anche io Marci Ciao Devo mettere la leva? Bravo Marci Vai passa la leva No no la leva Bravo Marci L'hai pensato la leva Apri la porta bravissimo Ok Io devo mangiare Marco Si Marco Domani Ma Marci abbiamo fatto il giro tondo Oh c'è un random Perché mi sto mangiando Marci ci hanno trollato Perché? Cioè noi abbiamo fatto tutto il giro Il giro tondo E siamo ritornati qua Minchia e zì Veramente No non è vero Ci hanno piazzato anche il blocco di red Ah è vero Wow Checkpoint Stavo già a essere trollato le puttane Checkpoint 14 Io non ho più vita Ho il cibo Ho solo dei pesci banana No non ha piovono creeper Ma c'è noi abbiamo fatto tutto Oddio Puoi anche non farlo il parkour Ah io sto facendo parkour estrema Con troll Possiamo fare parkour Ok Che bello Che bello Mica uso parkour è troppo difficile Eh se tanto cade Ma non se cade bene devo troppo XD Sono colto io Ehi ma che si sta menando Venite vuoi a darmi un bacino Ma è troppo difficile sto parkour Ma vaffanculo Ma che cazzo dici Ma perché non posso correre ogni volta Ok sto mangiando una Marci 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 Ok Ok sarà disconnesso dal Dal wifi Lascia che io sia Ma dove sei te? Porco Gesù Pia Ma sto laggando con i Ingredini Bravo Marci Ciao Eccomi Mani sei arrivato al rosso? Sì Guarda Marci che pv Un pro Madò Questo non lo farai mai tu Perché? Vai Marci Buttati nella mischia Vai Menali Falli vedere Ma non mi hai fatto neanche mettere il checkpoint No non ho perso la connessione Giuro Sempre a perdere le connessioni Sto marcivello Eh ma non vale E ce la va a fare Incredibile Comunque ragazzi Se volete vedere il continuo di questa cosa Mi piace Rispondete alla domanda Qual è il vostro tasto preferito di Minecraft Dani puoi mettere tutti i creeper che vuoi Che tanto sono in creativo E niente Quindi risposta Questa parte verrà tagliata Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Se non avete ancora fatto Iscrivetevi al canale di Dani Se non avete fatto Iscrivetevi pure al mio canale Adesso mi dimetterò a editarlo Perché questo video dovrebbe uscire per le 6 Lasciate un mi piace Arriviamo a 900 Rispondete alla domanda Qual è il vostro tasto preferito di me Ciao a tutti Ciao a tutti E spero che fino a questo punto Scrivete Che hashtag Dani è una bambina Ciao a tutti C'è un minion in mano Guarda Marci Non so Ma io lo vedo come panino Adesso lo vedo Come mignon Ciao a tutti Ragazzi Il video finisce qua Però Essendo che non ho fatto Un pre-video vero e proprio Nel quale vi dicevo delle cose Ve le dico a fine video Perché sono molto importanti Allora La prima delle quali Consiste nella campanellina Sull'applicazione di Google Se voi andate sul mio canale Iscrivete a Marci C'è una campanellina Vicino al mio nome Voi schiacciateci sopra E fate ricevi aggiornamenti Così almeno Sarà un feed in più Che vi arriverà sul telefono Per seguire sempre i miei video La seconda cosa ragazzi Riguarda i troll I troll continueranno Stasettimana ho fatto un pochino più fatica Perché sono con un mobile wifi Con un wifi portatile E quindi è molto difficile Collegarsi all'aircraft Facendo esplosioni e tutto Perché il ping sale Tipo a 2000 Ed è impossibile registrare Ed invece L'ultima cosa Ma non meno importante È Di seguirmi su Instagram Perché Molti di voi mi chiedono Se ho Instagram Instagram ce l'ho Lo troverete in descrizione Marci Eats Con due Y E una Z Quindi ragazzi Io vi lascio All'altro finale Che è tipo sempre strafiga E vi piace un botto La nuova Bella Ciao